Molto a un mio vecchio amico. Dicono tutti che somigliò a mio padre. Già. E' un piccolo. Lo conoscevo? Sì. Maledizione, Aaron! Quante volte ti devo ripetere! Ma guarda un po' chi si vede. Il figlio prodigo è tornato a casa. Sta lontano da questi stronzi. È stato un piacere. Ne è passato di tempo, Dawson? Quanto? Vent'anni? Grazie. Lo sai chi è quello, Aaron? È Dawson Cole.